Salve, sono Luciano Buia, sono nato il 19 dicembre 1953, praticamente 50 anni dopo il primo volo dei fratelli Wright. Quest'anno festeggio anche il mio cinquantennale dell'aeronautica e vi potrei spiegare brevemente qual è stato il mio excursus della vita da pilota. Quando avevo 14-15 anni sopra casa mia ho visto passare due F-104 in coppia motostretta a livello Tegole e io mi sono detto io devo andare su uno di quelli. Quando ho avuto la maggior età, che a quel tempo erano 18 anni, e ho avuto l'assenso scritto della madre, anzi no, non avevo ancora 18 anni, ho fatto la mia prima domanda all'Accademia Aeronautica, era 71 mi pare, avevo ancora da diplomare e non l'ho passato. Nel 72 mi sono diplomato all'Istituto Tecnico Marconi di Padova come perito termotecnico, col massimo di voti perché era una condizione necessaria per poter ambire ad entrare in qualche concorso d'Aeronautica militare. Cosa che si presentò lo stesso anno, feci domanda sia per il concorso di allievo ufficiale di complemento che se è quello del corso regolare in Accademia, che a quel tempo era l'Orione III. Fortuna ha voluto che fui qualificato idoneo al concorso per allievi ufficiali piloti complemento e raggiunsi Pozzuoli il primo settembre del 1973. Se vi ricordate, la settimana dopo è scoppiato il colere, quindi non era stato proprio il periodo migliore per iniziare un'avventura fuori casa. Ma tuttavia, essendo militare in un'Accademia un po' particolare come quella di Pozzuoli, non c'è stata occasione di uscire e quindi il problema per noi non si è posto. Passato indenne alle selezioni, agli esami dell'Accademia Aeronautica, a gennaio poi siamo trasferiti quelli idoni a Latina per la prima selezione al volo sul P-148. Passata brillantemente questa prima fase, tutti gli idoni sono andati a Lecce per fare il passaggio sulla MP-326 alla scuola di volo basico iniziale a Lecce. Lì la selezione è stata molto dura, in quanto in quel periodo l'Aeronautica non aveva molto bisogno di piloti militari, quindi prendiamo solo i migliori. La selezione, ripeto, è stata molto dura e alla fine di un anno e qualcosa ci siamo brevettati in 18, da 36. Il percorso poi era definito, guardate che andate tutti a Menzola, per andare dopo a Grottagli e dopo ritornare qui a Lecce. Quindi questo, diciamo, un futuro non molto perfetto aveva instaurato un po' di diffidenza in molti e ci hanno chiesto infatti di scegliere chi vuole andare a Latina lo può fare, sperando di essere impiegato in qualche reparto operativo e lasciarono a noi la scelta. Alla fine abbiamo fatto metà e metà e io pur nella classifica poter andare a Menzola ho optato per andare a Latina, sperando appunto un impiego in qualche reparto operativo tipo la 46esima brigata di Pisa e similari. Alla fine siamo diventati tutti piloti militari, tranne uno che aveva rinunciato nel finale e poi la mia prima destinazione dopo l'Aquila e piloti militari è stata la terza regione aerea, dove sono stato lì un periodo molto breve per essere poi rimandato alla fine alla Scuola Centrale Istruttori Volo di Grottaglie, dove ho fatto un bellissimo periodo col T6, che è un aeroplano che ha la mia stessa età e lì ci siamo divertiti molto perché l'impiego con questo aeroplano che era spendibile aveva la possibilità di usarlo fino ai limiti massimi consentiti. Dopodiché, come niente fosse, sono passati cinque anni, sei anni e si è aperta la possibilità di essere assunti dalla compagnia aerea, che era il mio secondo obiettivo da quando ero un ragazzo. Ho dato quindi dunque le dimissioni dell'Aeronautica Militaria e nel 1980, 8 settembre, data storica, sono stato assunto dalla compagnia aerea italiana Alitalia, che a quel tempo era proprio una compagnia aerea seria, con un bel palazzo all'Eur, palazzo che adesso IBM forse, non so, c'è ancora palazzo? Sì? Vabbè. Da lì inizia un'avventura, per così dire, che è durata 29 anni. Abbiamo iniziato, io ero un giovane capitano d'aeronautica, avevo 28 anni, e siamo entrati subito sul DC-10, che per noi era una macchina stratoserica, e abbiamo cominciato subito ad andare nei posti esotici come Rio de Janeiro, San Paolo, Bombay, e continuando nell'Iter, per essere breve, sono passato poi come pilota in seconda sul 19-30, altra macchina veramente formativa, per altri cinque anni per transitare poi sulla 300, per un anno, e poi primo ufficiale finalmente sul Boeing 747, che è una macchina che, secondo me, rimane una delle migliori mai costruite, e una macchina per il quale ogni pilota avrebbe voluto metterci le mani e pilotarlo. Passano così parecchi anni, e nel 91, alla fine, tocca anche per me il corso comando, sul 19-30, tanto per non farmi mancare niente, e alla fine, dopo un brillante risultato, nel 91, fino al 91, ho avuto la mia quarta striscia. Ho seguito i altri cinque anni sul 19-30, per passare poi sul MD-80. Ho fatto parte di un paio d'anni del team che volavano su Focus 70 alla Via Nova, eravamo distaccati alla Via Nova per fare un programma cosiddetto comandante domani, che era una specie di fucina per creare comandanti a un costo inferiore rispetto a quello che era del periodo. Anche lì Focus 70, la prima macchina molto elettronica, tutto glass cockpit, è stato un bel saldo di qualità. Purtroppo, come tutte le cose, non è andato a buon fine, dopo due anni hanno cancellato il progetto, per ritornare una volta ancora sull'MD-80, dove ho aspettato anche le funzioni di istruttore. Alla fine, seguendo la lista di anzianità, mi è toccato di andare sulla macchina che agognavo, ovvero il 747, che nonostante la sua veneranda carriera era ancora una macchina eccezionale. Parliamo del 1999. Ho fatto il 99, il 2000 e poi nel 2001, ahimè, sono stato protagonista involontari ed è un episodio che tutti, quelli della mia età senz'altro, ricorderanno, ovvero sia l'11 settembre del 2001. 9-11, come chiamano in America. Quel giorno ero ai comandi del Boeing 747 India Delta Eco Mike Sher, che partiva a Milano Malpensa diretto a New York. Il volo è partito a 40 minuti di ritardo quel giorno lì per giro macchina. Aspettavamo l'equipaggio di cabina che veniva Masgo da Roma e alle 9.40 decolliamo verso New York. Era una bellissima giornata, bellissimo martedì di settembre. Il volo delle Alpi era veramente fantastico. Iniziamo poi a passare con la Francia, all'Inghilterra, all'Irlanda, finché iniziamo l'attraversata Atlantica. Tutto si svolge secondo la norma, secondo routine. Il volo era pieno, 412 passeggeri, comunque nessun problema relativo alla cabina. Si era già fatto il pranzo e quindi l'aeroplano si dedicava al consueto riposo post pranzo. Intanto l'aeroplano corre a 900 all'ora. Avevamo una tracca abbastanza alta. Quel giorno lì, quindi lasciando l'Irlanda, abbiamo sfiorato la Groenlandia per poi entrare in Canada e quindi Boston e poi New York. Al passaggio del 30 ovest non era ancora successo niente. Perché cito il 30 ovest? Per chi è un pilota di lungo raggio lo sa. Ma per gli altri il 30 ovest è una linea di demarcazione che identifica il punto di non ritorno cosiddetto. Ovvero, succede qualcosa prima il 30 ovest? Ritorniamo in Europa. Succede qualcosa dopo? Andiamo negli Stati Uniti o in Canada. Dopo il 30 ovest cominciamo a sentire qualche chiacchiericcio sulla frequenza in uso per i piloti, in quanto a quella distanza non siamo sotto controllo radar. A quel tempo noi non avevamo né ACARS né altri sistemi che hanno adesso come CPLC. Quindi eravamo in balia noi stessi e facevamo un riporto di posizione ogni 10 gradi di latitudine, di longitudine, proversi ogni ora di volo. Passato il 30 ovest, ripeto, cominciamo a sentire in questa frequenza interpilot dei piloti americani che parlano tra di loro. Erano anche texani, secondo me, perché ho capito 20% di quello che avevamo detto, però avevo così capito che c'era stato un incidente a New York, un aeroplano che ha centrato una delle torre Ciamelle. Tutti quanti siamo un po' preoccupati, vuoi vedere che è successo un'altra volta, quello che è successo 50 anni fa. Però dopo mezz'ora le frasi erano più concitate e abbiamo capito che era successo un'altra volta sull'altra torre. A quel punto ci sono rizzati tutti i peli delle braccia e abbiamo cominciato a capire che era successo qualcosa di anormale. Si era intromesso un pilota della British Airways, il quale, chiacchierando questi piloti americani, abbiamo capito chiaramente che era successo qualcosa di grave. A quel punto lì abbiamo capito che forse quel giorno la 604 a New York non ci sarebbe andata. Con l'equipaggio ipotizziamo di un dirottamento in Canada e abbiamo già cominciato a tirare fuori il manuale di rotta per vedere gli aeroporti alternati che ci sono nella costa canadese quando finiamo la traversata atlantica, ovvero sia Gander, St. John oppure Torbet. Il volo continua senza nessun problema, anche durante il rapporto e posizione del 40 ovest i controllori di Gander non ci hanno detto niente. Alla fine chiamo Roma con il telefono satellitare e parlo con il capo ufficio operazioni. Adesso non mi ricordo il nome del comandante e comunque dico guarda, sono il comandante buia, qui siamo sulla track Bravo, stiamo andando a New York, però è successo qualcosa. Il comandante, adesso non mi ricordo più come si chiama, mi ha detto, è successo qualcosa? È successo un casino. Ho detto, ah madonna, è mosso cavoli tuoi. Ah ok, va bene. E così il volo procede a 900 all'ora verso la costa atlantica. Arrivati al 50 ovest, che è circa 200 miglia da Gander, il radar canadese ci vede, facciamo un rapporto e posizione, ci danno un codice da mettere sul transponder, ci identificano e poi ci comunicano queste testuali parole. Lo spazio aeroamericano è chiuso a tutte le operazioni, dovete atterrare un aeroporto canadese il prima possibile, date e diteci quale aeroporto intendete utilizzare. Noi che già avevamo fatto il briefing con l'equipaggio, ah ok, ricevuto, vorremmo preferiremente atterrare a Gander, St. John o Torbay, stand by, la classica frase. E intanto l'aeroplano corre 900 all'ora verso la costa del Canada, ci richiamano dieci minuti, non ci dicono niente di quello che è successo, ribadiscono il concetto che lo spazio aero americano è chiuso e ci danno come destinazione l'aeroporto Stephenville, copiato Stephenville, cominciamo a vedere dove cavolo è questo Stephenville. Tutte le volte che siamo andati negli Stati Uniti e controlliamo gli aeroporti alternati di questo Stephenville non ho mai fatto menzione. Abbiamo scoperto che è un piccolo aeroportino che sta sulla isola di Terranova. Allora cominciamo a vedere le cartine, la pista è lunga 4 km, ci stiamo, però è un aeroporto che non ha assistenza, non ha l'ILS, c'è solo un beacon, è un paesetto piccolo, io ci porto un aeroplano a 400 persone e lì magari hanno neanche la scala per farli scendere, e roba del genere. Intanto che facciamo queste discussioni, ci avviciniamo al Canada e cominciamo l'avvicinamento a questo Stephenville. Allo stesso aeroporto poi abbiamo scoperto, passando un altro controllo, che c'eravamo noi, un Lufthansa, un Aeromex, un Air France, 4-5 aeroporti. Per gli esperti in materia, l'aeroporto di Stephenville ha un solo NDB di procedura, quindi uno arriva lì, fa il biscotto, fa la Oldie e poi che inizia la procedura, senza un controllo dell'attore in quanto non c'è. Quindi l'unico contatto radio era con un grande avvicinamento, una volta che avevamo visto la pista e che lui dichiarava che poteva atterrare, cominciava un altro. Però la procedura richiedeva un quarto d'ora aeroplano. A quel punto lì, pur non essendoci problemi di carburante, in quanto a volo andava a New York, quindi ne avevamo a Iosa, l'attesa in queste situazioni qua non era per niente simpatica. A quel punto si fa avanti l'aeroplano della Lufthansa che chiede un dirottamento a Halifax e che lo concedono subito. Ha detto, ah sì, a lui sì, chiediamo anche noi, chiediamo anche noi e noi inseriamo a ruota. Lì eravamo 10.000 piedi, diamo il motore, saliamo a 25 e dopo 30 minuti atterriamo a Halifax. Sempre nella completa ignoranza di quello che era fatto. Ovviamente durante il volo i passeggeri possono telefonare con la loro carta di credito e avevano più informazioni di quelle che avevo io. E il capo cabina arrivava sempre con la nata, c'è qualcuno che voleva parlarle, eccetera. Alla fine ho fatto arrivare due persone, una era una matematica di New York che aveva fatto, ah qui è successo questo, è la terza guerra mondiale. Signore, grazie di informazione, però adesso ritorno al suo posto e noi cerchiamo di arrivare dove possiamo arrivare. Poi un altro pazzo, ho detto, non mi mandate più i pazzoi, per favore che abbiamo un po' di casino. Alla fine siamo in avvicinamento a Halifax, ogni tanto facevo degli annunci ai passaggieri con quello che sapevo, avevo dato disposizioni all'equipaggio di cabina di mantenere il controllo per quanto possibile, levare posate, coltelli, quelle robe là che potevano essere armi offensiva perché, ripeto, il problema più grande di quel giorno era capire l'origine e l'importanza della minaccia che era in corso. Stabilizziamo in finale sulla pista 24 di Halifax, c'era una copertura totale ai 1500 piedi, come bucchiamo le nuvole, vediamo due piste a 90 gradi, una con l'altra, piene d'aeroprani, madonna, a quel punto lì atterriamo e usciamo dalla pista scortati da un pick-up bianco, quelli che sono gli americani nelle fattorie, ci porta dietro, in mezzo ai campi praticamente sulla pista dove erano parcheggiati gli altri e mi parcheggia dietro un 747 della British Airways a un metro e mezzo dallo scarico dell'Apu, con due ali sul prato. Perché? Perché dall'altra parte c'erano altri aeroplani. Abbiamo fatto un conto che quando siamo atterrati noi ci saranno stati 30 aeroplani wide body. Alla fine, dopo un'altra ora, sono atterrati altri 20 che hanno messo in coda, come tanti taxi all'uscita dalla stazione, e ho calcolato 10.000 persone al giro di 3 km di pista, di tutte le nazionalità. Quando siamo arrivati lì a parcheggiare dopo quello della British, c'è inserito un tecnico dell'Air Canada che ci ha detto Welcome to Halifax, I inform you that you have engine number 4 leaking fuel. Ah, ho detto grazie. Praticamente venuti a Halifax e vi informo che avete il motore numero 4 per la benzina. Mancava solo questo. Una volta che siamo stati a terra, la situazione, l'emergenza era finita, almeno per noi. Ho cercato anche lì di gestire la situazione al meglio possibile con i passeggeri, ho dato istruzioni all'equipaggio di cabina di mantenere una toaletta chiusa solo per noi e di razionalizzare le altre, non sprecare né acqua né cibo perché la situazione non sapevo come andava a finire e se c'erano delle situazioni particolari di gestirle in prima persona e poi venire a relazionare a me. In cabina e pilotaggio fortunatamente i Boeing 747-200, il classico, avevano equipaggio di tre persone, comandante, primo ufficiale e tecnico di volo. Ho gestito la cosa mantenendo sempre una persona in cabina e pilotaggio con la radio accesa e uno dei due faceva dei piccoli turni di riposo, tranne i comandanti che i turni di riposo non li fatti mai perché mi chiamavano sempre e alla fine, per farvela breve, siamo stati dieci ore con i passeggeri a bordo. Perché? Perché le autorità canadese non potevano far scendere dieci mila persone, tutte insieme in un aeroporto che poteva contenerne se non un decimo. E così si sono organizzati per trovare sistemazione per tutta la gente e quando hanno trovato la sistemazione per tutta questa gente nei vari alberghi, quelle disponibili, palestre, chiese, case e via dicendo, hanno autorizzato a far scendere i passeggeri. A noi eravamo circa numero 25 in lista d'attesa, si è procrastinato per altre 3-4 ore, i passeggeri sono scesi dalla scaletta dove giù c'erano la polizia, i cani, le foto elettriche che ormai è diventato buio, hanno fatto tutti quanti un tutto un controllo personale prima di salire su un autobus il 22 barato, il 18 ore e sono andati via per non so dove, in quanto noi non avevamo nessuna informazione. Una volta sbarcati i passeggeri ci hanno chiesto l'autorità canadese di possibilmente rimanere a bordo in quanto posti non ce n'erano più. Allora lì ho detto all'equipaggio mettiamo a posto prima classe, diamoci una pulitina e passiamo la notte qua. ci hanno chiesto quanti passeggeri avevamo, quanti eravamo di equipaggio, se avevamo particolari esigenze. A parte uno che aveva avuto la bella idea di avere un infarto durante quelle 10 ore là per il quale ho dovuto chiamare l'ambulanza e il medico, un passaggero greco, secondo me già in avanzata età, che viaggiava con una valigetta piena di pillole e tutti i colori, aveva avuto un attacco, a quel punto lì i medici che erano a bordo, fortunatamente americani, per cui bisogna portarle all'ospedale che ho chiamato, sono venuti dopo 5 minuti veramente. Il paramedico che è salito con la valigetta era greco, quindi praticamente si sono parlati e se l'è portato via e ciao. Alla fine ovviamente questa gente, 400 persone, 10 ore, è successo un po' di tutto che non sto qui a dirvi. La più simpatica è stata quella di top class, che era piena, anche quella dove ci passaggieri VIP, uno di quali era Renzo Rosso, il padrone della diesel che andava a New York per una fashion week che ovviamente non ha fatto. E vedevo che era l'unico che riusciva a telefonare, mentre tutti i lati i telefoni erano basiti in quanto le linee si erano contagiate. Il signor Rosso aveva un ultimo modello di Ericsson che ho chiesto per conto di sia se mi impostava per chiamare a casa e sono riuscito a comunicare ai miei familiari che ero sano e salvo in quel di Halifax. Dopo che abbiamo sbarcato i passeggeri che abbiamo fatto briefing con l'equipaggio, avendo telefonato anche a Roma dicendo guardate siamo quasi ai miei salvi, ho detto ah, meno male, eravamo veramente preoccupati. C'era anche un altro plano che era la Chicago, sì, la Chicago qui di fronte a noi stanno bene anche loro. Siamo riusciti a farci dare premessa, avevo detto che avevamo il motore che perdeva benzina, quella era una cosa a quale ero molto preoccupato, ho detto qua non parto più. Alla fine con il tecnico di volo siamo scesi sul ground con una scaletta a pioli che è del vano elettronico, l'unico aeroplano che ce l'ha, suppongo, che non avevo mai fatto prima perché dovevamo essere fatte nel rampe period, ma nel rampe period devi sempre corri, 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 a fama, a fama, a fama dopo e l'ho fatta per la prima volta a Halifax dopo tre anni. Ci passo giusto giusto con le spalle. Allora io il tecnico, siamo andati a vedere questo motore e in effetti non c'erano aperte benzina, c'era un po' di kerosene per terra, hanno buttato un sacco di filler per assorbirlo, però non c'era perdite copiose. Abbiamo guardato dentro il cono di scarico ma a noi non è sembrato ci fosse nulla. Utilizzando un pantografero siamo riusciti a travasare anche un po' di carburante da un serbatoio all'altro in modo tale di avere la garanzia che là, pur il motore ausiliario funzionasse in modo tale di essere indipendenti per quanto riguarda aria condizionata e energia elettrica. Tenete conto a quel tempo lì Halifax era l'11 settembre, c'erano 18-19 gradi, e noi a bordo avevamo 5 tonnellate di parmigiano reggiano da consegnare ai ristoranti di Enrico Cipriani a New York. Più un'altra cosa, va bene, quella non la dico. Poi ci hanno chiesto se avete bisogno di qualcosa, si guardateci un po' di pane, di latte, di acqua, un po' di igiene alimentari eccetera eccetera. E qui ci hanno portato una cassetta con dei vivri che per 400 persone era una goccia sull'acqua, ma mi rendo conto che 10.000 persone a gestire non è che sia semplice neanche per una città grande come Halifax. Una volta salito a bordo per la scaletta ho chiamato il mio capo pilota, ho detto guarda qua ci hanno detto che il motore perde benzina, cosa devo fare qua? Ti faccio parlare col capo della manutenzione, ti faccio un foam patch. Allora dopo un dieci minuti mi chiamano a satellitare. Arruana sono Persichetti da manutenzione, mi dica. Persichetti qui ci hanno detto che perdeva benzina, siamo andati a vedere, noi ci sembra che vada tutto bene, ha perso un po' di benzina ma non tanta. Arruana sono le WSV. Cosa sono Persichetti? Sono le WSV. Le WSV sono le Vane Stator Valve. Sono delle valvole a incidenza variabile sullo stadio del compressore che si praticamente aggiustano in funzione del flusso d'aria per garantire il migliore rapporto di compressione. Si vede che una delle guarnizioni a riposo perdeva. Ma ha già avuto altri riporti? Io non ho visto niente sul libro tecnico. No, come andate? Ma a volte o va. Ah, bene, Persichetti. A volte prende pure fuoco. No, non si preoccupi. E così è finita la faccenda. È andato in secondo piano perché la mia preoccupazione era equipaggio e passeggeri. Alla fine, dopo che avevamo messo a posto la prima classe, eravamo pronti per la notte. Tenete conto che oramai eravamo arrivati quasi alle dieci di sera. Noi ci eravamo alzati alle cinque e mezza del mattino a Milano, mentre l'equipaggio di cabina ancora prima da Roma perché eravamo arrivati a mare la frutta. Dopo un quarto d'ora ci chiama, sempre il grau, l'accortezza di mantenere sempre qualcuno alla radio perché sennò come mica te potevano comunicare col segnale di fumo. Ci dicono che hanno trovato del posto anche per gli equipaggi e se abbiamo intenzione di scendere. un rapido giro di opinioni, tutti quanti poi hanno raggiunto l'idea che era meglio scendere e fare una doccia, mangiare qualcosa eccetera eccetera. Così è stato. Dopo un'altra mezz'ora è sopraggiunto un camioncino, quello delle pulizie, quello che porta la cartigenica che pulisce eccetera eccetera. Siamo scesi con quello. Siamo riusciti ad alzarlo fino al vano dove avevamo i bagagli nostri, quelli dei passeggeri ovviamente sono rimasti a bordo nei pallet. Abbiamo recuperato le nostre valigie e siamo stati trasportati alla sala VIP dell'aeroporto di Halifax dove c'erano tutti gli equipaggi che erano già scesi. Lì sono stato avvicinato dai comandanti dell'Air Canada, mi ricordo il nome, il comandante Semel, l'altro, i quali ci hanno detto ci dispiace di trovarci in questa situazione in questo momento ma se avete bisogno di qualcosa siamo a disposizione e questi sono i nostri nomi di telefono. Le ho ringraziate e ho detto per un momento non abbiamo bisogno di niente, casomai teremo il debito conto. In questa sala VIP ragazzi io ho visto tutti gli equipaggi americani dell'American, della Delta che avevano tutti un'espressione per dire che avessero ucciso la sorella lì giorno prima. E posso anche capire perché, perché dopo che siamo entrati in questa sala VIP abbiamo visto per la prima volta, almeno noi, le scene ripetute in maniera totale e continua dalla CNN di questi due aeroplani che sbattevano contro le torri gemelle. Torre nella quale ero stato una settimana prima, quindi a maggior ragione ero un po' provato. Dopo aver mangiato qualche panino, ho preso un po' di caffè e ci comunico che hanno trovato una sistemazione anche per noi, in un paesetto si chiama Truro, un paesetto di pescatori posto a 100 km a Halifax dove avevano trovato delle camere. Ci fanno sedere su un bus scolastico, quelli gialli, non so se avete presente in tutti i film americani, che è un autobus che è stato disegnato per fare una fermata ogni 100 metri, quindi non è dotato di sospensione. Noi abbiamo fatto 100 km su questi sedili di plastica senza ammortizzatori. Siamo arrivati nelle cuore della notte in questo paesetto di pescatori, andiamo in questo motel ambiguo, comunque motel, e lì c'è il Recepis, che ci saluta. Sì, sì, sono stati avvisati, qui abbiamo le sette camere per voi. Ho detto, come sette? Noi siamo in dici a sette. Ho detto, ah, e noi c'è uno, no, sette, come facciamo adesso? Allora, guardi, ci dì le camere fatte, le camere mezze fatte, e le altre dormiremo in due, in tre. Fatto sta che ho qui la lista d'equipaggio, ancora con numero delle camere che ho dovuto decidere io, due hostess, due sedi volo maschi, una per me, una per il capocabina, una per un ufficiale. Ci siamo arrangiati, ero mai tre le notte, ho detto, guardate, andiamo a dormire, e domani mattina alle 8 alle 9 facciamo un briefing, vediamo come è la situazione. Entriamo in camera, sfatti completamente, dormiamo, che era riuscito a dormire 4-5 ore, al mattino dopo facciamo colazione e facciamo un briefing, ho telefonato a Roma, non si sa niente, resta là in attesa di istruzioni. Ovviamente un equipaggio che è abbandonato all'estero deve gestirsi con le proprie risorse, ovvero con la mia carta di credito. Va bene, siamo andati a pranzo, ho pagato io, ovviamente sperando poi qualcuno mi... anche perché 14 persone che mangiano, non sono tante. E alla fine sono riuscito a contattare il capo dell'Italia a Montreo, il quale poi ci ha garantito che avrebbe pagato lui le stanze, ci avrebbe anche mandato un po' di contanti per le piccole spese. E quindi siamo andati avanti un giorno, abbiamo fatto, non dico i turisti perché i turisti in quella maniera tutti erano preoccupati, le mamme con i figli eccetera eccetera. Quando andavamo a cena o a pranzo in qualche ristorante e sapevano che eravamo uno degli equipaggi dirottati, ci avevano allargato le braccia e tutto quanto, e così passano altri due giorni. Due giorni nei quali, cari signori, la situazione, non dico che era sfuggita di mano, ma era imponderabile. Nel senso io avevo contatti con il capo pilota, col console italiano Halifax, con le autorità canadese aeroportuali. Il fatto sta che da Roma volevano che portassimo i passeggeri, quindi rimasti poi, a New York perché dovevano portare indietro migliaia di passeggeri che erano rimasti là, più cento membri di equipaggio che non potevano tornare a Roma, quindi mandare lì un 747 sembra stata una manna. Però aprivano lo spazio americano un'ora, dopo un'ora lo richiudevano. È diventata proprio veramente la faula di Sisifo. E per farla breve, alla fine del quarto giorno, il capo pilota, io lo chiamo, sentite qua la situazione, non si capisce più come andare, l'equipaggio della France è partito stamattina all'albergo per tentare andare a New York e l'ho visto ritornare otto ore dopo senza aver fatto niente. E mi fa, buia, hai carta bianca, decidi tu quello che puoi fare per il tuo meglio, per il meglio equipaggio dell'aeroportuale, eccetera eccetera. Ho detto sì, ho anche il problema del motore che ha perso benzina. Adesso io faccio fare tutti quanti i controlli da personale dell'Aeroportuale perché se riesco a mettere in moto e partire bene, sennò l'aeroplano rimane qua. Fai quello per il quale pensi sia meglio. E lì il signore ha fatto comandante. Quindi ho esercitato le mie funzioni, ho deciso quello che mi sembrava giusto e alla terza notte, dopo siamo tornati da cena verso le otto e mezza così. Ragazzi, andiamo a dormire, domani mattina facciamo un briefing alle otto e vediamo un po' la situazione di nuovo. A mezzanotte mi chiama il console. Console onorario a Halifax, che era un sardo, ho mandato là non certo per i suoi meriti. E comunque mi dice che c'era una possibilità di partire alle 5 del mattino. Cosa vuole fare il comandante? Ah, le dico anche che ci sono dei passeggeri italiani, se vanno a New York, si legano la sedile e strappano i passaporti. Ah, grazie per l'informazione. Allora faccio un altro momento locale, chiamo il primo ufficiale, chiamo anche il capo cabina, così e così e così. Ritengo che la condizione migliore da seguire sia partire e tornare a Malpensa. e così ho deciso. Adesso svegliate tutti quanti gli altri, fra un'ora vi voglio giù nella hall, vestiti con la valigia fatta in uniforme per andare in aeroporto. Bene, e così abbiamo fatto. Abbiamo dormito tre ore e quattro, quindi no. Dopodiché chiedo, ma come li porto io in aeroporto qua a 17 persone? Allora chiamo alla reception e vi dico, senta, ce la fa a trovarmi sei taxi fra un'ora? Se no devo chiamare la polizia a cavallo e requisire un autobus o qualcosa. Ah, comando, se preoccupi, ci penso io. Dopo un'ora tutto l'equipaggio era lì pronto, le spese per l'albergo erano già regolate in Italia e quindi eravamo pronti per salire su questi taxi e andare verso l'aeroporto. Stacca rovani a sei taxi nel mezzo della notte e si avvicina. Arriviamo lì in aeroporto Halifax, entriamo, gente dappertutto. incontro questo console italiano a Halifax, capisco perché avevo certi presentimenti e a quel punto gli dico, senta, sì, io ho intenzione di tornare, ma pensa. E così, ma i passeggeri, i passeggeri quelli italiani vogliono ritornare. Gli altri non li vedo più. Avranno tentato di tornare negli Stati Uniti in qualche maniera. Chi con la canoa, chi con il pedalò, anche sì che dubito che qualcuno potesse passare la frontiera in quel momento là. Facciamo i controlli anche noi. Ci hanno tolto anche le macchinette per tagliare le unge. I rasoi. Abbiamo fatto una montagna delle macchinette così. Dopo una perquisizione capillare, passiamo dall'altra parte, andiamo a Flight Dispatcher per attualizzare il volo. Incontro il tecnico della Canva che ha fatto la pre-flight, il pre-volo, ha notato qualcosa che non va, perché io non avevo scritto niente sul libro, ovviamente, sapendo com'era la situazione. Ma no, per me è tutto tranquillo. Allora, abbiamo avuto un espediente così di parziale fuoriuscita a carburante, ma io non ho notato niente. Mettiamo in moto prima quello, più che se prende fuoco lo spengo e restiamo qui ospiti di Halifax. Sì, sì, va bene. Allora mi fa... Lei è un abilitato a fare i controlli. Sì, sì, li faccio per il Canada, per l'Air France, per tutti quanti. Mi faccia mandare un cartone di lavoro dalla sua compagnia e io faccio quello che mi dicono loro. A che? Rincuorato di questo, prendo telefono satellitare e chiamo l'ingegnere del servizio. Ho detto, guardate, sono qui, Halifax, comandante buia, potremmo fare partenza, avrei bisogno di un cartone di lavoro per quanto riguarda l'ispezione fatta dal personale, non all'Italia ora. Ah, comandante, non c'erano mai quel fax oggi. Comunque, abbiamo detto, è riesercitato le funzioni di comandante, gli ho detto, faccio i controlli come prescritto la norma FIA e io firmo il libro tecnico di Bordeaux e ottorizzo la partenza. E così abbiamo fatto. Intanto, goccia a goccia arrivavano i passeggeri, avevano messo a terra tutti i bagalli che erano dentro, dentro le stive, in modo per fare il riconoscimento a bagalli. Dei cinque tonnellate di parmigiano e rugiano, non so più che fine abbiamo fatto. Per me se li sono mangiati i canadesi. E dopodiché, goccia a goccia, una volta che avevano riconosciuto il bagaglio, salivano a bordo e vedevi questa area di rilassamento totale e roba del genere. Piccola nota a margine. Ovviamente un aeroplano a 400 persone a bordo, ha dei residui che non vengono smaltiti buttandoli fuori dal finestrino, ma rimangono dei sacchi neri dell'immondizia. Sacchi neri dell'immondizia che erano rimasti a bordo. Fortunatamente erano stati tolti dal personale delle pulizie. Però i residui dei pasti, dentro i carellini, sono rimasti là. Con un odorino non molto invitante, perché loro non potevano assolutamente toccarli quelle... E allora col capo cabine ha detto, se non mi è avuta un'idea, ci facciamo portare dei nastri adesivi, quelli grossi da pacchi, e sigilliamo tutti quanti i trolli, cosa che abbiamo fatto con un buon risultato. Il catering quel giorno lì era composto da una vaschetta con una banana, un crackers, uno yogurt e basta. Ecco, anche prima classe è uguale, ed equipaggio pure. Dopo due ore di questo stilicidio di imbarco così lento per il conoscimento del passaporto, dalla valigia, imbarchiamo e chiudiamo finalmente le porte. E adesso si è vicino al capitolo quello che poteva essere un epilogo. Allora in contatto radio con la tecnica di cui accendiamo un motor numero 4, che è inverso alla sequenza normale che è uno, due, tre, quattro. Messo in modo il numero 4 è andato in moto perfettamente, non ha preso fuoco, l'abbiamo controllato un po' di parametri, abbiamo cominciato a mettere in moto anche le altri tre, cosa che si è risolta favorevolmente, e abbiamo iniziato il rullaggio per tornare a Malpensa. Traffico nullo, eravamo solo noi, forse un altro aeroplano. In Atlantico, al ritorno verso l'Europa, traffico nullo, che di solito ci sono centinaia di aeroplani, abbiamo sentito solo un aeroplano dell'Elal che veniva in senso contrario. Ci sarà stato qualche personaggio particolare dentro. Diciamo che il volo non ha avuto nessuna particolarità, tranne i racconti dei passeggeri che hanno avuto un attestato di, come posso dire, di amicizia col popolo canadese, specialmente quello di Halifax, gli hanno aperto le case, gli hanno consentito l'uso del telefono, e ovviamente hanno dichiarato che non erano stati molto assistiti dall'ambasciata, per ovvi motivi, perché non c'era solamente quello, dove c'erano tutti quanti gli altri posti, gli aeroplani dell'Italia dirottati. E comunque sono stati bene, sono riusciti a mangiare, a lavarsi, a comunicare, e poi ritornare in Italia. Cosa da quale ci hanno ringraziato infinitamente. All'arrivo a Malpensa, ovviamente, l'ultimo biscottino, sono state turbolenza severa, un bel wind shear, temporale di accendamento, ma una volta toccato terra sul saldo italiano, anche i Vipaiolian si sono liberati con un caloroso applauso. E qui finisce la storia del volo. Abbiamo avuto piacere che all'arrivo, allo sbarco di passeggeri e equipaggio, c'erano tutti quanti i capi piloti, i capi delegazione dell'Italia che ci hanno ricevuto. C'erano anche le TV nazionali, ci hanno fatto un'intervista molto breve, per carità, poi tutti i giornali ho visto che hanno inventato un po' di più di quello che io avevo detto loro. Comunque è tipico. E questo è quanto, per quanto riguarda l'11 settembre 2001, del quale siamo stati protagonisti non richiesti. Io cosa devo dire? Che ho avuto modo di capire quanto importante è la coesione di un equipaggio. È stato insegnato con dei corsi chiamati CRM, che si resta per Cockpit Resource Management, cioè praticamente la gestione dell'equipaggio, specialmente in condizioni critiche. E devo dire la verità, senza essere autoritario, ma con l'autorevolezza che era richiesta a quel momento, tutto l'equipaggio al quale ho dato le disposizioni le più precise possibili si sono adeguati e si sono comportati nel migliore dei modi. Tanto che abbiamo ricevuto tutti un incommio scritto dalla compagnia. E questo è quanto riguarda il volo. Altre particolarità personali, io poi sono ritornato 15 giorni dopo a New York, sono andato a ground zero, sono riuscito ad introfularmi dietro dove c'erano ancora i lavori di sgombero e vedere le travi a doppio T con l'acciaio spesso 3 cm attorcigliato come un cavatappi che puzzavano il cherosene carburante di aeree, sinceramente è un ricordo che farò fatica a dimenticare. Questo è quanto per quanto riguarda la nostra avventura dell'equipaggio 604 del 11 settembre 2001. Ebbene, questo racconto dell'11 settembre 2001 ha fatto interrompere quello che era il mio proseguo della carriera all'Italia. I dati noti fatti, tutti gli aeroplani di lungo raggio sono stati praticamente decimati. I viaggi aerei hanno ricevuto uno stop ovviamente evidente, però questo ha ridotto quella che era la capacità degli aeroplani e hanno fatto rendere non profitable gli aeroplani di lungo raggio, specialmente quegli anzianotti come il 747 dell'Italia che dopo neanche un anno è stato messo a terra. Quindi tutti i piloti del 747 sono transitati nel Boeing 767 che è un bimotore sempre a lungo raggio con caratteristiche diverse. Questo qui era modernissimo rispetto al 747 che viaggiava ancora con le vecchie piattaforme inerziali e ancora gli strumenti analogici. E in questo Boeing 767 ho ripreso la mia attività di lungo raggio per altri cinque anni per transitare poi nel 2007 nel Boeing 777, macchina anche questa molto bella e la quale ho apprezzato molto. In quel tempo però l'Italia ha sofferto un po' di tsunami interni, il che ha causato praticamente la risoluzione dei contratti di molto personale sia di terra che di condotta. E anche nel mio caso essendo in una finestra decisa dei sindacati con l'azienda che era pensionabile nei cinque anni sarebbe stato messo in cassa integrazione. Cosa che è toccata anche a me poco dopo. Nel settembre 2009, questo settembre ormai comincia ad entrare un mese ricorrente nella mia vita aeronautica, sono stato posto in cassa integrazione. Dopodiché il pilota sapete com'è, è come la busta del latte. Dopo sei mesi che non vola, scale. Sono riuscito a trovare un impiego, come tanti altri piloti d'Italia, presso la Turkish Airline, la compagnia di bandiera turca a Istanbul. Anche lì, assieme a altri colleghi, ci hanno subito accettati bene e ci hanno messi in linea col Boeing 777, dando un'altra prova, se fosse stata necessaria, dell'alta specializzazione e competenza dell'equipaggio dell'Italia in giro per il mondo. Lì sono stato fino al 2014, dopodiché, raggiunti i 60 anni, ho cominciato a sentire il peso di farmi 8 notti in bianco e 50 fusi orari al mese per 11 mesi e ho deciso che era ora di smettere. E così ho fatto. Però non contento di questo, mi sono posto così un altro obiettivo, che era quello di diventare rispettore di volo all'Enac. L'Enac aveva bisogno di comandanti con esperienza per espletare queste funzioni nei vari compartimenti qui nel nord-est, nella zona di Milano, di Roma e di Napoli. Ho fatto concorso anche lì, ho vinto anche quello, quindi vuol dire che sono anche bravo, e ho fatto questa funzione ispettore di volo presso l'Enac di Venezia per altri 5 anni, fino al raggiungimento di 65, oltre la quale il pilota è pensionato e può andare a vedere i cantieri in giro per il mondo. Anche questa è stata un'attività ovviamente burocratica per il pilota, non è che sia proprio una pallacea, però ho avuto modo di poter fare l'ispettore di volo presso compagnie aere come l'Air Dolomiti, che era sotto la mia giurisdizione. Ho fatto dei voli con loro, sia simulatore che in cabina, ho fatto dei controlli simulatori negli Stati Uniti, e quindi diciamo che anche i 5 anni di scartoffi li ho passati abbastanza bene. Adesso, alla vigilia di 70 anni, giuro che mi piace ancora staccare l'ombra da Terra, però lo faccio con un mio aeroplaneto personale quando ho tempo e quando il tempo me lo permette. Questo è quanto. Grazie. 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 Grazie.